Miss Circle è morta. Riuscirò a trovare l'assassino? La mia mamma no. Troverò l'assassino. Non preoccuparti, è stato uno di voi. Bambini del film. Bambino del film. Eri tu? No, l'ho lanciata sulla luna ma era solo per divertimento. Era così dolce. Rispetto a te. Ci stavamo divertendo finché degli uomini in giacca non l'hanno rubata. Cosa c'è? Questo uccello non ti appartiene. Dobbiamo restituirlo al suo vero proprietario. Per favore, mantieni la calma e seguici. Cosa? Quindi l'hai rubato a questo bambino? Stavamo facendo degli esperimenti su di lei. Opila, bevi questo. Ok. Ah, sei un perdente. Quindi l'hai uccisa. Andrai in prigione. No. Un minuto. Chi li ha uccisi? Tu. Quindi è stato l'abnab. No. Stavo facendo uno scherzo ai youtuber in quel momento. Ti vedo. Adam, scappa. Wow ragazzi, Justin è pazzo. Oh mio dio. Hold up. Wait a minute. Cosa faccio? Ew! Oh mio dio. Oh mio dio. Ok, la mia ultima vittima. Oh mio dio. Quindi l'hai uccisa. No, te lo prometto. Non sono stato io. Cosa? È morto. No, no, no. Non è possibile. Aspetta. Cos'è questo? Bambam, è tuo? Forse. L'hai ucciso. No, non sono stato io. Ero su un palco e tutti mi odiavano perché mi trollavano. Ah, perdente. Perché hai fatto questo a me bro? Perdente Bambam. Ora tocca a me. Na 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 na. Amo cantare. Iai. Iai. Ti vogliamo bene Bambalena. Perché hai fatto questo a me bro? La la la. La la la. Non può essere così. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Guardati dietro. Quindi hai ucciso Bambalena. Non è possibile. Ma chi ha ucciso Opila allora? Ho visto che qualcuno l'ha colpita con l'auto. Ehi Opila. Attenzione. C'è un guidatore scadente. Oh mio Dio. Ho visto che Pigsten controllava l'auto. No, non sono stato io. Mi sono innamorato di lei. Chiederò un appuntamento alla mia cotta. Opila. Ok. Un'ora dopo. Ok, mi chiedo cosa mi ha fatto. Cosa? Pesche. 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 Ti amo. Ah, non sarò mai con te. L'hai uccisa con un coltello. No, era uno scherzo. Ma lei mi ha fatto uno jumpscare. Era uno scherzo. Te lo prometto. Non mi importa. No. Per favore smettila. Sfermati. No. Forse qualcuno della tua famiglia ha voluto aiutarti e l'ha uccisa. No. Mio fratello si è fuso. Disgustoso. Pesche. Pesche. Guarda. Bello lavoro. Possiamo usare un coltello affilato. Non penso che dovremmo farlo da soli. È sempre buono essere coraggiosi quando sei da solo. Guarda. Sono un pirata. Ah. Non sembra sicuro. Oh mio Dio. È stato così irresponsabile. Ma aspetta. Cos'è questo? Nastro. Non ascoltatela. Ha ucciso Opila. Te lo prometto. Che hai detto? Oh mio Dio. Cosa? Wuli. Adesso tocca a te. Cosa? Oh mio Dio. Mi hai salvato. Sì. Aspetta. Posso vedere il tuo coltello? Sì. Chiume dell'uccello Opila. No. Mi stava bullizzando. Ma non l'ho uccisa. No. Per favore no. Non ferirmi. Ah. Perdente. Ti taglierò il naso. No 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 no. No. Prenderò vendetta su di te. Cane. Puoi darmi il tuo naso? Fammi fare per te. Grazie. Dammi il tuo naso, amico. Mai. Quindi hai ucciso l'uccello Opila? No. No. Perché l'hai ucciso? Non sono stato io. Stavo togliendo le maschere a Garten dei personaggi di Bambam. Sono sceriffo e oggi vedrò le facce di tutti quei criminali. Oh my God. Prima selina di lumaca. No. God. Please no. Amanda. Come hai fatto a saperlo? Il prossimo Nab Nab. Per favore. No no no. Poliziotto Barry. Fratello. Sceriffo. What? Signor Flynn Flem. Wow. Ora Zolfius. Cosa? Nani? Tuberi. Porcaro. Per favore, non mostrare questo in camera. Mister Beast. Oh my God. Credevo che tu stessi regalando dei soldi. Ora Kanguro. Adam di Lenkybox. Ora tu. Justin di Lennycox. Hold up. Wait a minute. Tempo di Bambam. Per favore, non mostrare questo. Criccraft A. Ti amo fratello. Bambalena. Jenna. Ma aspetta. Ne manca uno. Uccello opila. Aspetta. Fermati. Tornare. Per favore, lasciami in pace. Mai. Sei arrestata. Non è possibile. È sopravvissuta ed è andata a cercare aiuto. Ho bisogno di aiuto. Questa è la famiglia perfetta. Facciamo una reazione a qualche jump scare. Chiederò loro di adottarmi. Ehi, potete adottarmi? Cibo. Cibo. Quindi siete stati voi. L'avete mangiata. Oh mio Dio. No. No. Sono venuti per lei. Chi? Robin, no, no. Non è possibile. Di nuovo le luci. Ehi, l'avete uccisa voi? Per parlare dobbiamo avere la testa al suo posto. Ok, lasciatemi disegnare per voi. Fatto. Il prossimo. Bene, è l'ultimo. Oh mio Dio. Siete pronti? Controlliamo. Mi fa male. Ok, ora dimmi cosa hai fatto a Opila. Ci deve dei soldi, quindi l'abbiamo spaventata. Ok, dateci i soldi o useremo i nostri jump scare su di voi. Robin, no, no, no. No, per favore. Non sopravvivrei. Quindi date i soldi. Non li ho. Jump scare. Metti mi piace e iscriviti prima che tutte le paure passino e salverai Opila. l'hai uccisa. Il caso è chiuso. Aspetta. Cosa? Ma ci bullizzava fin dalla nascita. Credo sia giunto il momento. Amico, spaventerò questi ragazzi con uno spavento improvviso. Ah, sono un buffone. Ma non è comunque una ragione per uccidere le persone. Andrai in prigione. Ma non è morta. Ehi, ehi, firmati. Cosa hai fatto a quelle entità? Oh me, pensavo che avrebbero svelato il mio segreto. Quale segreto? Hai ucciso Opila? Ho usato la magia per tagliarla in due, ma non ha funzionato. Oggi taglierò Opila in due. Oh mio Dio, spero tu sappia cosa fare. Iniziamo. Controlliamo. OMG, OMG. Oh me, va bene. Ehm. Non sembra buono. OMG, Opila mi dispiace. Ok amico, andrai in prigione per questo trucco di magia. No, aspettiamo il meglio. Cosa ho fatto? M, chi sei? Hai ucciso la falsa Opila. Ora decidi quale è la vera. Questo è falso. Ho indovinato giusto. Per verificare quale è reale, disegnati. Fatto. Opila disegna incredibilmente bene, quindi sei fuori. Avevo ragione, disegna ora il tuo amore. Fatto. Va bene, sappiamo tutti che Opila ama lo sceriffo. Avevo ragione, non ho ucciso Opila. Quindi se non sei stato tu, allora chi? Non è possibile. Il prossimo. Ah, ah. Aspetta, ehi. Ah. Cosa? Fermati. Perché ridi accanto a lei? Ridevamo perché la odiamo. Perché? Perché voleva mostrare a tutti le nostre vere voci. Sto per mostrare le vostre voci reali di Garten di personaggi Bambam. Prima lumaca. Per favore, fa male. Prossimo, sceriffo. Dobbiamo porre fine a questa follia, non abbiamo molto tempo. Arriveranno presto. Poi, Jumbo. Vieni qui. Cosa hai detto? Vieni qui? O qualcosa del genere. Il prossimo sefiddles. Sentiamolo. Voce straordinaria. Sei solo un insetto. Adoro questo verso. Ok e l'ultima. Zolfio. Per favore, non mostrarlo. Per favore, non mostrarlo. Lo farò. Piacere di conoscerti. Vedo tutto. Il tuo tempo è finito. Perché hai fatto questo? Che cos'è questo? Aiuto. Ho tanta paura. Cadrò. No. È caduta e morta. È tutta colpa tua. L'hai uccisa. No, è sopravvissuta. Sono vivo. Oh, quindi è colpa di Jumbo. No, ho cercato di baciarla. Ti bacerò. Per favore, no. Per favore, fermati. Fermati. È mia. Ok, quindi qualcuno rosso ha fatto questo. I bambini di Bambana non lo farebbero mai. Sono troppo dolci. Fratelli, adesso. Ok, quindi l'hai fatto tu. L'ho presa e l'ho gettata nel fuoco. Cosa? Opila è in questa borsa. La getterò nel fuoco. Quindi sei stato tu? Il caso è chiuso. Aspetta. Cosa? Ho trovato un video e non c'era Opila in questa borsa. Oh no, vediamo chi c'era dentro. Fiddles, non è possibile. Controlla la chiocciola Selene. No, non sono stata io. Eravamo fratelli. Penso che sia il momento. Perché questa è diversa? Ah, ah, ah. Sono così arrabbiata. Ed infine, vieni qui. Quindi l'hai uccisa? No, erano i suoi fratelli. Non è possibile. Di nuovo. Aspetta, dove va questo sangue? Qui. Chi è questo? La famiglia Mab Mab. Non l'abbiamo fatto noi. Ehm. Sei un sospettato. No, eravamo in Squid Game. Ma hai ucciso Opila. No, eravamo in Squid Game. Andare. Skibi, perché non vai? Non preoccuparti Opila, ci penso io. Come lo spiegherai? Era solo un gioco. Non è morta. Non c'è modo. Aspetta, di nuovo. Cosa? Cosa è successo? Chi è questo? Ehi, sei stato arrestato. Dimmi cosa hai fatto a questo posto. E dov'è Opila? Posto. Pensavo che non lo avresti mai visto. Ok ragazzi, chi salta più lontano vince. Ti eliminerò Opila. Mai. Vai. Ho vinto, perdente. Ma tu avevi un'auto migliore. Non è giusto. Verità. Opila vince. Cosa? Non può essere così. Ok, ti abbiamo preso. Ora andrai in prigione. No. Ah. Qualcuno ha ucciso Bambalena. E anche qualcuno ha ucciso Nabnab. Guarda fino alla fine perché troveremo l'assassino. Chi è l'assassino? Aspetta. Mettini giù. Prima Bambam vedo i tuoi denti su di lei. Mi ha fatto arrabbiare perché era sempre migliore. Yeah. Uh-huh. La la la. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. L'assassino. hai il mio braccio oh mio dio mi dispiace mani in alto sei arrestato quindi l'hai uccisa ho solo morso la sua mano ma quando ho scappato dalla polizia ho iniziato a rapinare e sono finito in prigione impossibile che sia in prigione ma aspetta o no abbiamo la stessa cella ah finalmente posso vendicarmi mio dio quindi l'hai uccisa il caso è chiuso no aspetta ho ucciso un poliziotto per salvarla ah sei chiuso qui dentro no mio dio mi hai salvato bacio mio dio quindi vi siete innamorati alla fine si ok passiamo al prossimo fata ururo stavo giocando con bambalena e nabla oh mio dio è stato così cattivo ma poi si è vendicato su di me e bambalena spero che nessuno mi spaventi di colpo amico fammi uscire ok quindi nabla l'ha solo spaventata di colpo ma aspetta cos'è questo il naso di coach piccolo no mi stavano prendendo in giro dove sei? ah cos'è questo? il mio naso lascia che lo tagli per te no no oh mio dio cosa è successo dopo? mi sono vendicato su di loro ehi cane mi puoi dare il tuo naso lasciate che lo faccia io per voi grazie ora di vendicarsi amo il mio nuovo naso ehi è la tua fine ora è il turno di bambalena ok vedo bambalena ehi dammi il tuo naso ok grazie ehi bambalena muori ehi 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 brother no 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 ah quindi hai ucciso nabla e bambalena non lo prometto impossibile figlio di bamban l'hai ucciso tu? non sono stato io lo prometto ho invitato bambalena al mio concerto ma nab nab non piaceva l'idea ehi bambalena ho fatto qualcosa per te cosa? cosa sta pensando? lei è la mia cotta quindi cosa è successo dopo? mi sono vendicato ok nab nab sei pronto per sentirmi cantare? vai ah tempo di riposarsi quindi l'hai ucciso caso chiuso no impossibile chi lo ha fatto? aspetta c'è una siringa strumento del dottore penso che il rosso potrebbe ucciderlo non ero io cercavo di farli mutare ora di farti mutare mangia questo ah no 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 ah ora tocca a te no no ha funzionato ah e ora è il momento di unirvi muah perfetto sapevi che avrebbe potuto ucciderli? sì ma non è successo mio dio l'umaca selina è il tuo muco li hai uccisi no in quel momento stavo inseguendo persone nella vita reale metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per 24 ore cosa stava facendo stava schivando meme lol ok ma dimmi cosa sai di bambalena e nab nab mi ha buttato in piscina mio dio ti hanno buttato in piscina prima che foste mostri di nuovo aspetta a dell'alfabeto hai ucciso bambalena e nab nab ero un peluche normale ma lei sedeva sempre su di me tempo di sedersi ah un'ora dopo ho aggiunto delle spine su di me si pentirà di essersi seduta su di me tempo di sedersi ah ehi 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 due ore dopo ora aggiungerò dei cubi puzzolenti aaa bambalena ceniamo insieme ok prendi posto sarà la cena migliore sto rompendo con te aspetta cosa cinque ore dopo ultimo scherzo aggiungerò della tnt aaa aaa o voglio dormire ho avuto una brutta giornata no 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 aaa aspetta agrer è troppo hai distrutto la mia vita vieni qui cosa è successo dopo? ti ha eliminato? si mi ha ucciso in cento modi diversi ti faceva male? si aspetta qualcosa sta dando i numeri amanda l'hai fatto tu? ho visto bambalena e nab nab guidare una macchina e mi hanno investito tempo di guidare la mia nuova auto ferma 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 lei uccisa no lei è sopravvissuta solo con una botta in testa capisco a amanda anche lei è morta aspetta vedo un coltello coltello dello sceriffo ehi tu l'hai fatto stavo solo togliendo le loro maschere sono lo sceriffo e toglierò tutte le vostre maschere per vedere i vostri volt prima bambalena amico altre maschere amico mio dio altre maschere ei torna qui amico cosa ok prima la fata cosa justin pensavo avessi paura della fata ok la famiglia di zolfius wallie amanda ora il puzzolente joel per favore no sono brutto a cacca fiddles sono bello vediamo a schibbi via ok dopo nipples adam di lenky box amico impossibile ora per questo ragazzo del capitolo 4 per favore non fatelo ho dei figli e sono brutta dentro lo farò a flamingo wow pazzesco prossimo nab nab sono la persona più brutta del pianeta non fatelo vedere non dirlo nessuno è brutto mio dio così carina prossimo jumbo m chi sei ok prossimo luma casseline please don't do it cause 1 m average lo farò genna ok abbiamo controllato molti di loro ora questo ragazzo da un nuovo capitolo vediamo il tuo volto bello prossimo bamban vediamo no per favore no cosa cric ti amo john viola vediamo no per favore smettetela subito nonno di squid game prossimo è squalo da a isho speed prossimo pigster 4 kailuz prossimo allenatore pickles mister beast wow e ora tutti aspettavamo nab nab e bambalena mio dio wow ok quindi non li hai eliminati qualcuno ha sparato allo sceriffo a perché l'hai fatto hai ucciso nab nab e bambalena odiavo nab nab perché mi entrava nell'occhio per favore esci dal mio occhio e odiavo bambalena perché mi rubava i bambini bambini state qui e giocate a chi chiude per ultimo l'occhio ok tempo di rubare dei bambini i miei bambini mio dio quindi cosa è successo dopo così un giorno volevo dargli una lezione mi hai tradito quindi ora ti insegneremo una lezione per favore no spavento aspetta sono morti aspetta cosa sic no aspetta vedo qualcuno ehi fermati qui ero innamorato di bambalena sposerai bambalena si bambalena lo sposerai si aspetta no lui l'ha rubata ora baciami per sposarmi per sempre no per favore no per favore no ma è no perché lo hai eliminato te che chiedi ti stavo salvando ma è justin stavamo scherzando con te no mio fratello quindi hai ucciso il falso nab nab sei un sospetto ah opia te che era zulfius non io hai inciso bambalena facevo colazione con il ketchup il mio cibo no 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 eeeh li hai mangiati tutti ero sazio cosa sentito uno sparo cosa amico rosso pensavo fossi morto dimmi cosa hai fatto stavo cercando di uccidere bambalena e nab nab e ho fatto una competizione per gli spaventi tempo di uccidere il giardino di bamban siete tutti a metà partita facciamolo che ha vinto allora nessuno non sappiamo ancora chi ha fatto aspetta cosa stai facendo mio dio pigster quindi hai fatto tutto tu pensavo che avessi fermato il caso pensavo che avessi fermato il caso ero solo affamato ok stai andando in prigione impossibile che sia stato pigster ma ce l'abbiamo fatta jumbo josh è stato ucciso con un cecchino e non preoccuparti troverò chi l'ha fatto prima il cattivo dal film ho cercato di spararli ma qualcuno lo ha salvato oddio ma il prossimo proiettile è passato attraverso di lui si ma è sopravvissuto oddio quindi voleva ucciderti dopo che l'hai sparato si quindi ho usato carri armati e esercito cosa è successo dopo? ha distrutto i nostri carri armati non mi distruggerai mai io e il mio padrone classico jumbo josh w non sei stato tu ma jumbo josh è stato ucciso e vedo le piume di shika e freddy stavamo cercando di vendergli del cioccolato ma era strano e vuoi comprare un po' un po' di cioccolato? chocolate ne prenderò uno grazie poteva eliminarti non tu lui oddio bambam li hai uccisi sto mangiando personaggi di giochi popolari ma non ho mai mangiato jumbo ho così tanta fame lasciami mangiare carne è molto cattiva o vedo qualcuno di buono ancora cattiva carne oh aspetta era mio amore adesso lumaca ok nessuno di loro era buono ma penso che questo ragazzo possa avere un sapore migliore cosa stai facendo? oh mi dispiace ok quindi ha quasi ucciso te fratello jumbo era brutale oh mi aspetta chi sei tu? ero nella casa di jumbo ed era spaventato di me perchè questa cosa è nella mia casa? aspetta ora è nella mia lavanderia devo andarci aspetta la vedo è realmente qui oh no ehi tu nindi l'hai ucciso il caso è chiuso no è sopravvissuto non puoi spaventarmi in casa mia fratello quindi chi l'ha fatto? ho visto tamataki accanto a lui tu l'hai inciso no mi ha eliminato vieni qui o hai paura di me è troppo mi hai sputato addosso jumbo è davvero brutale hmm non ho ancora alcuna prova ehi popcat controlla meglio bambam oddio oh non puoi scappare ora per favore non uccidermi per favore no grazie puffy bambam sei un sospetto ora ok volevo spaventarli bello ti ucciderò ti hanno colpito con l'auto fratello non sono tuo fratello oddio fluffy mi hai salvato grazie aspetta ma chi è questo? cosa stai facendo accanto a jumbo josh? mi ha adottato quando ero giovane e mi odiava nanana umme chi è questo? che dolce uccello ti adotterò umme omg impossibile no 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 man sai cosa? sei troppo dolce per arrabbiarti con te parte ehi opila aspetta fratello è un maledetto tsunami ma lo pulirò fatto no e troppo Esci dalla mia casa ora Dieci anni dopo Aspetta qualcuno sta suonando Sei tu uccello? Metti mi piace e iscriviti prima dello spavento per avere fortuna per un anno È morto No, lo prometto Aspetta il mio schermo sta greciando Bibi è qui Ciao, ho hackerato il capitolo 4 del giardino di Bambam Cosa? Wow, il nuovo capitolo sarà finalmente lit Ma hai ucciso Opila e Jumbo No, non l'ho fatto Perché dovrei? Amanda? Aspetta un minuto C'è solo un hacker in questo mondo Io... Oddio hai ucciso Pibi Ma hai ucciso Jumbo No, mai Stavo solo prendendo in giro lui Ehi Jumbo lascia che ti disegni dei muscoli Ok Ha funzionato Ora cambiamo il tuo volto Cosa? Cosa? Facciamone uno nuovo Ora aggiungiamo delle gambe divertenti Robin, no, no Per favore fermati Ok Ho finito? Ciao È stato brutale ma ho visto che è sopravvissuto Oh no Oddio, chi le sta sparando? No, firma L'hai uccisa quindi forse hai ucciso anche Jumbo No, stavo valutando i jumpscares dei personaggi del giardino di Banban Prima questa cosa Prossimo uno pallone da basket Ok, prossimo i figli di Opila Tu vai al capitolo 3 per me Perché sei dolce Prossimo canguri Prossimo Bene Prossimo fiddles con i pantaloni a Ora prossimo nabnablena e nabnab Buon jumpscare Quindi ora meglio Ok, prossimo bambalena Mostrami qualcosa Prossimo uccello Opila Ok, tempo per Banban Banban Quindi ora robot Banban Quindi il prossimo è il mio preferito ragazzo dal naso lungo Ok, quindi prossimo abbiamo la lumaca Selene Mi piacciono i jumpscares così Ma ora tempo per Stinky Joel Ora è il momento per Long Joe Bacio E Nibbler Kanguro fa Tauruo dall'ohaio Ok, quindi prossimo pigster Questo ragazzo Ok, andiamo avanti Ne voglio uno tuo Fa male Di notte Ehi, tu Cosa? Il tuo jumpscare mi ha fatto esplodere quindi ora è il momento della vendetta L'ha inciso Il caso è chiuso No, aspetta, non l'ha fatto Cosa? Ha sopravvissuto a questo jumpscare e poi mi ha bullizzato Questo è così cattivo Spero tu sia sopravvissuto Sì, quindi sono qui Oddio no way Qualcuno ne ha fatto un pancake Ho sentito dire pancakes Perché mi hai spaventato? Hai spaventato anche Jambo? Sì Aspetta cosa? Eravamo su uno ship Dai vai più veloce Ok, ok Sono bloccato Penso che sia scivolato Oh mi dispiace Aspetta È morto Non mi sento bene No, ha sopravvissuto al 100% Oh my gosh Mr. Beast Impossibile Sono un grande fan Grazie Ma hai ucciso Jambo L'ho appena spaventato con un poster Che bel poster Amo Mr. Beast Ho un infarto Aiutami Ho bisogno di un nuovo cuore Oh mio dio cosa ho fatto Non preoccuparti Ti darò il mio cuore Grazie ma Mr. Beast Cosa ti succede? Sto morendo Sei un eroe Grazie ma penso che lo sceriffo sia sospetto Ehi Firma Stavo solo mostrando i loro veri volti Ah ora è il momento di vedere i vostri volti Bambalena No Per favore no Sì per favore sì È un ragazzo Fratello Prossimo uccello opila No per favore Wow Cosa? Tipo sospetto Ok è strano Voglio vedere la faccia di Jambo ma ora Silent Steve OMG Oh mio dio Giga Chad dai video di Mr. Beast È me che mi hai preso Ok pigster ora What? No John Pork Ha iaccherato Cartoon Network Un influencer di nome John Pork è stato trovato morto sulle rive del fiume Colorado I primi soccorritori sono arrivati sul posto questa mattina dopo diverse testimonianze oculari Che diavolo Ok prossima lumaca Selene Criccraft Non calvo Prossimo Nab Guarda i video di Mr. Beast Prossimo uccello opila Cosa? George Not Found Fiddle Ciano Per favore non farlo Lo farò Mi dispiace Mr. Beast Prossimo Stinger Ha a bel faccia fratello Ok prossimo è mio fratello sceriffo Flamingo Andiamo Prossimo Nottles Dababy andiamo E l'ultimo Se lo farai ti spaventerò Il mio preferito Ah mai Attacco No Non può essere così Umme L'hai inciso No lo prometto Ehi torna qui Perché hai fatto questo? Tutti sceglievano i giocattoli del giardino di Bambane Nessuno sceglieva me Quindi ho preso vendetta Figlio Scegli solo quattro Ok facile Brutto fratello Li prendo io Ok prendiamoli Non può essere così No I miei giocattoli Il caso è chiuso Ho visto che Jumbo era morto No era solo un giocattolo HMM quindi chi potrebbe essere? Aspetta Elefanti Guarda Ho un bambino Non potevo eliminarlo Aspetta Hai dei bambini? Sì Oddio così dolce Luchi li ha storditi Lumaca No Non l'ho ucciso Stava solo schivando i miei attacchi Bene l'uomo diavolo rosso non ha funzionato quindi eccoci qui Sospetto Molto sospetto Aspetta chi è questo? Ti assicuro che non l'ho ucciso Stavamo solo lottando per una ragazza Pesche Ti amo OMG è così bello Lei è la mia ragazza Ah vieni da me Il troppo Ti abbiamo preso Non combattere mai per le ragazze Non è Sigma Non l'ho ucciso Te lo prometto Impossibile Chi l'ha fatto? Aspetta Chi è questo? Vieni qui Ehi Cosa? Indovina chi è reale ora Oddio Ok Mostrami i tuoi spaventi ragazzi Prima Non fa paura Ok successivo Spaventoso fratello Prossimo Prossimo Bello E ultimo Spaventoso Ma sei falso Wow è una bambalena Quindi ora dite qualcosa ragazzi Piacere di conoscerti Vedo tutto Sento tutto Suoni come Zolfius Prossimo Siento lo siento Cosa hai detto? Ne restano tre Ho sentito dire che Zolfius era forte Quindi colpisci questi muri E vediamo Dai Ok Ok il prossimo giallo Era più forte Ok il prossimo Il migliore di tutti Quindi questo è falso Nubb Nubb Ok qui Quindi ne restano due Quindi sto rischiando e uccidendo l'ultimo Odio Odio Garten di Bamban e ho fatto jumpscare fight Bamban versus mostri più spaventosi È tempo di fare la battaglia finale Sei pronto? Vai Sì Sì personaggi vinto Quindi hai ucciso Jumbo? Sì Mi dispiace Andrai in prigione Ok ce l'abbiamo Ogni Garten di Bamban è morto Jumbo Bamban Opia Praticamente tutti Non preoccupatevi ragazzi Troverò l'assassino Che diavolo Metteteli giù Ora Prima Toilet perché la tua immagine è accanto a quella del Garten di Bamban Non puoi conoscere la verità Grazie cameraman Nessun problema Ora Dimmi cosa è successo Li abbiamo impacchettati dei bagni Per favore Lasciami in pace En Ti abbiamo preso Tu l'hai fatto No Non sono stato io Papà aiutami Papà Oddio Cosa Oh no Lui vuole prendermi Oddio Grazie ragazzi Ma ora Li hai uccisi tu? No Ho fatto guerra con loro Allora Li hai uccisi Il caso è chiuso Oddio Non ero io Sei accanto a lui Ok mi avete preso Li ho fatti schiantare Impossibile Impossibile Ok questa volta Ok questa volta hanno vinto Sì Quindi sai che non li ho uccisi Ma aspetta Cosa è questo? È niente Lascia che veda Mettiamolo qui Oh no Perché avevi tutte le loro morti Si registrate su VHS Non ero io Chi? Allora L'hai ucciso tu? No Prometto Il mio gioco Stava morendo Quindi volevo Mostrare i loro volti Abbiamo tutto il cartel Di bambin qui Vediamo i vostri volti E la vostra storia Jester Cosa? La mia storia è triste Oh no Oddio è così triste Eri un clown prima Prossimo canguro fatato Oh my god Impossibile Una ragazza Oddio Ok Questa era bella Prossimo Oh no John Dream Hi Ok prossimo Oddio Alto Victor Elon Musk Cosa? This is Elon Musk Molto bella la storia Oh no Il prossimo è Hunter Team Vediamo Cosa? Nikado avocado Wow E' una storia bellissima Ok Ora Nibbler Vediamo Flim Flam Sei una brava persona Flim Flam Rispetto Prossima Miss Luna Vediamo la tua storia Che diavolo Che diavolo Eri carina Vediamo il tuo volto dopo qualche anno Rock Oddio Quindi prossimo Ora è il turno del mio preferito Tamataki Oddio Non questo Oddio Pochi istanti dopo Uomo Così sei diventato reale Vediamo il tuo volto Ora E il secondo DJ Khaled Davvero Il prossimo è Stinger Vediamo Era triste Ora il volto Gigashad Ok E il prossimo Silent Steve Wow Ti hanno ucciso Ora il volto Non hai un volto Ok E tutto Siete tutti distrutti Allora li hai uccisi No Ho solo mostrato Il loro volto Cosa sta succedendo Vedete tutti interrogati Aspetta PopCat Il ragazzo Che li ha eliminati Aveva questa voce Ascoltala Ok Li ascolterò Non questo Non è questo Davvero Ancora non è questo Ancora non è questo Prossimo Nonno Cos'era? Che diavolo Era? Non tu? Non sei tu Ok l'ultimo Si lo abbiamo preso Sei tu Poliziotto Li hai uccisi tu? No L'ho colpito accidentalmente Jambo aiutami per favore Non puoi scappare ora Sparare È sopravvissuto dopo questo? Si Sono sicuro Che diavolo Cosa sta facendo qui? Metti mi piace E iscriviti prima dello spavento Per avere fortuna Per dieci giorni Chi sei e li hai uccisi tu? Sono la ragazza Dell'orologio alternativo E sono stata proprio Nella loro casa Ragazzi qualcuno È in casa nostra Ragazzi dobbiamo correre Il caso è chiuso Li hai uccisi tu È morta Ma chi è questo? Johnprop sei stato tu? No Io li stavo creando tutti Ragazzi Tutti voi sarete trasformati Nei miei mostri Wow Sono il prossimo? Wow Sono il prossimo Turno di NubNub Wow Ho un corpo NubNub Cappello da festa Sono pronto Sono il prossimo Bello Bello Io sono il prossimo Siete tutti pronti Aspetta Chi è questo? È ora di trasformarvi tutti in bagni Prima tu No Ora il resto Il mio esercito è pronto Ah Se non li hai uccisi tu allora chi? Oh no Oh no Chi è questo? Oddio Oh scusa ho preso il tetto sbagliato Aspetta Hai ucciso il garten di Bambam? No Ma ci provo sempre Li hai uccisi tu? Ho provato come hai potuto vedere ma mi hanno distrutto Allora se non sei stato tu allora Justin Cosa stai facendo qui? Eravamo normali youtuber ma ci hanno spaventato e messo nei bagni Ok non hai fatto nulla Perché l'hai ucciso? Stavo cercando le mie scarpe Ok ma sai chi potrebbe averli uccisi? Sì certo Camera man glitchato Oddio era toilet ma mostrami ora il camera man glitchato Oddio il camera man glitchato ti ha tagliato la testa Sì Perché mi hai fatto uno spavento e li hai uccisi tu? No te lo prometto Ho solo messo una telecamera spia a casa loro Vai a spiarli Va bene papà Oddio quindi li hai sfruttati Sono morti Cosa sta succedendo? Mi ha tagliato il naso Stai zitto Oddio li hai uccisi quindi hai ucciso il resto del Garten di Bambam? Ho provato Ok penso che siano qui Nessuno ci troverà Sei sicuro? Cosa è questo? Che cos'è questo? Tagliamolo Facile O quindi hai cercato di ucciderli Questo è male Impossibile Il prossimo è morto Aspetta Vedo qualcuno Li hai uccisi tu? Non l'ho fatto Avevo il mio esercito di villager I villager hanno costruito la mia statua di toilette Perfetto Erobrine smetti I villager non sono i tuoi lavoratori Cosa hai detto? Attacco Finalmente ti abbiamo preso Mi dispiace Andrai in prigione Ok il caso è chiuso Mi hanno detto che tutto ciò che disegno diventa reale Testiamolo Ho creato dei bambini bellissimi a Mutiamoli Fatto Non mi sento bene papà Vieni qui papà Ancora Oddio Ha funzionato Il mio pennello è il migliore E me aspetta Ehi Riportaci alla normalità Oh Orario della lezione Bambini Disegnatemi Facile Buono Evviva Il mio turno Buono Lascia che te lo disegni Che cos'è questo? Cattivo Aspetta Mi dispiace Ho troppo potere Non disegnerò mai più niente Popcat cosa hai fatto? Ho bisogno di disegnare Fatto È la tua fine Popcat Oddio Cosa è appena successo? Se ho dei superpoteri Come posso fare soldi? Guidare attraverso quei dossi Per un milione di dollari Oh my god Prima io Ah perdenti Il mio turno Posso provare? Ah sì ma perderai Devo disegnare una macchina Fatto Wow Sta volando Aspetta come? Facile Questa è impossibile Ho bisogno di una nuova macchina Ah Andiamo Oh mio dio Ce l'ho fatta Un ultimo Oh my god What the hell Oh my god No way Ce l'ho fatta Non posso credere a quello che è successo ma ecco il tuo premio Sono ricco Sono ricco ma ne ho bisogno di più Chi salterà più lontano vincerà l'intera terra Oddio E questa è la mia macchina Sono il primo Bel salto Il mio turno Che bel salto Tocca a me Perdenti Buon salto Tempo per me Noob Arriverò alla mia Lambo Salto intermedio Ora è tempo per il bagno Aspetta È troppo lento Lasciate che mi disegni una nuova Fatto Wow Oddio Quasi la fine Congratulazioni Hai vinto la terra Andiamo La polizia Lui sta imbrogliando Catturatelo Devo disegnare una macchina Fatto Wow Devo disegnare Disegnare di nuovo Fatto Ok È ora di distruggerli Wow Ha funzionato Capo Cosa devo fare? Saltami addosso Grazie Grazie Ora devo nascondermi Perché ce ne sono altri Oh no Cosa dovrei disegnare dopo Boom Pokat Aiutami Stanno distruggendo la mia fabbrica Oddio Disegnerò personaggi personalizzati Non ti preoccupare Fatto Wow Ora penserò a qualcosa di strano Fratello Che Bello Sta qui Prossimo Ah Incredibile Ultimi due Oddio Prossimo Fatto Wow Ok Attacco Grazie mille Popcat Nessun problema Ma ora sei in arresto Mi dispiace Cosa? Si fermi Si fermi lì Incredibile Sono in prigione Disegnerò la fuga Bello Ume Ume Ciao Sto valutando da ora Ha perso la testa e ha bisogno di qualcuno che ne disegni una nuova Lo farò io Bello Tutti i suoi amici sono morti e ne voleva di nuovi Tutti i miei amici sono morti Aiutami per favore Disegniamo Fatto Evviva Prossimo Stavano facendo il bullo con il giocatore e lui voleva l'ultra crucifisso per reagire Mi sta maltrattando per favore disegna un crucifisso Non c'è da preoccuparsi Grazie Grazie Gritto l'uomo Il prossimo è Zolfius Si è trasformato in piccolo e voleva diventare più grande per tornare in gioco Ok Fammi provare Fatto Grazie Voleva essere più grande della terra Oh Sarà difficile Ma ce la farò Ok Ce l'ho fatta Bene Ha rubato l'autobus con i bambini di Ramby Friends È brutto Quindi ciao ciao Facile Ok il prossimo È stato picchiato dai bulli e voleva denti e ossa nuove per spaventare la gente Disegniamo Fatto Wow questo è così figo Ha mangiato i bambini dell'uccello opila ma poi se ne è pentito I bambini restano qui per un momento Beh i bambini Una buona cena Aspetta non mi sento così bene Perché ci hai mangiato? Ehi se vuoi ottenere Robux per i prossimi dieci giorni metti a mi piace e iscriviti ora Ha cambiato il suo gioco in porte e stava inseguendo le persone con tazza Smettila di inseguire le persone Fratello Il prossimo Aveva bisogno di nuovi personaggi per il suo terzo capitolo Noi Sai disegnare i personaggi? Sì Ho un'idea Perfetto Il prossimo Fatto Oh no fa schifo ma lo amo Aspetta a prendere il vestito Grazie Il prossimo Fatto Forse l'ultimo Oh my god Disgustoso Che cosa hai detto? Il prossimo Voleva valutare ogni jump scare di ognuno da Garten di Bambam Oggi valuterò tutti i vostri jump scares Prima Hai Ora tu Buono Prossimo Ora tu Ah capito Non fa paura Il prossimo è lo squalo Spaventoso Ora scream Eugen L'ultimo Buono Wow è stato impressionante Il prossimo morto Voleva mostrare ogni faccia di ogni giardino personalizzato di Bambam Mostrerò la tua faccia nella vita reale No E me sei metà cattivo e metà buono Vai libero Prossimo Aveva tre fratelli che avevano fatto le loro case e il lupo cattivo stava cercando di distruggerle Ehi io farò una buona cena Dobbiamo nasconderci nelle nostre case perché sta arrivando Farò saltare in aria le loro case Buono Ora tu Sono troppo debole Finalmente L'ultimo Non funziona È troppo forte Sei sopravvissuto È bello Voleva essere più magro perché la gente lo prendeva in giro Lo farò Wow Grazie Voleva una moglie e dei figli Ok Ti disegnerò una moglie e dei figli Siete dei bellissimi bambini Ah bello Lo chef gli ha rubato i figli e ci ha fatto gli hamburghe Quindi li vuole indietro Cibo piacevole Torna indietro Cuciniamoli No 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 Ma sotto i miei occhi Per me sei una persona perfetta Ok prossimo È così puzzolente che quando scorreggia c'è un allarme tossico Non credo che le tue scorreggie siano così cattive Sei sicuro? Sto per morire Mangia la cacca e poi fa la cacca più grande del mondo Oh cos'è questo? Lo mangerò Buono Oh aspetta Devo andare in bagno Buono È ora di lavarsi le mani Che diavolo Il prossimo È così disgustoso che fa la pipì sul gabinetto chiuso È ora di fare pipì Fatto Nooo Ha bisogno di sapone per punirsi perché tutti stanno morendo per il suo odore Lascia che lo disegni Fatto E per me fai solo schifo ma sei una brava persona Prossimo Aveva una cotta per Baldi e voleva che lui si innamorasse di lei Per favore Baciami Sei così intelligente che dovremmo stare insieme Ok Prossimo Volevano avere dei figli ultra intelligenti Ok Fammi disegnare Fatto Sei così intelligente Stava dando la caccia alle persone e le uccideva e qualcuno doveva fermarla Wow wow No 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 Smettila di inseguirmi Devo disegnare Ok fatto Ora I miei bambini saranno i migliori Wow cosa dovrei scegliere Senza bocca o con bocca Con bocca UMM Poi senza gambe o gambe normali Senza gambe No le ho perse Braccia a tentacolo Ali Braccia a tentacolo Dove sono le mie braccia Oh eccole Wow Un solo occhio Bello Facce da spavento Facce carine Facce da spavento Ok e l'ultima Essere cattivo o buono Cattivo a Wow wow Sono brutto Prossime gambe lunghe o denti affilati Denti affilati UM Grandi occhi o pugni grandi Occhi Wow Essere forte o debole Forte Wow Piccolo o gigante Gigante Wow wow Colorato o verde Verde Essere buono o cattivo Cattivo ovviamente A Sì 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 Ho bisogno di più figli Dai Due cappelli o testa rasata Due cappelli Bello Rosso o verde Rosso come impostore Wow Slime dalla bocca o lingua lunga Questo Forse restiamo con la lingua Meglio Avere o non avere i muscoli Avere Wow wow Due occhi O un milione Due Yeah L'ultimo Alto o basso Alto Wow 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 Papà Wow figlio Wow toccami adesso Essere blu o rosso Blu O bello Essere grande o piccolo Grande Sorridere o essere tristi Sorridere Wow Un dente o denti grandi Quello grande Wow è di questo che sto parlando Senza piedi o con i piedi Con i piedi Wow wow E l'ultima scelta è la testa Papà Wow Il primo figlio brutto Cosa papà Non importa Il prossimo Essere una ragazza o un ragazzo Ragazza Sono bella Viso carino o faccia spaventosa Faccia spaventosa ovviamente Wow Piccola o alta Piccola Zero Wow Orecchie normali Aspetta Non voglio assomigliare a questo Essere cattivo o buono Cattivo Papà Wow una bambina E l'ultimo Oh wow Dove sono? Coscia umana o coscia di pollo Cosce di pollo Le mie gambe Oh no Wow le mie gambe sono fantastiche E ora essere rosa o colorato Um è rosa credo Wow sono rosa Ok allora il prossimo Grandi ali o mani Ali Perché posso volare in cielo? Essere un uccello o un pesce Preferisco essere un uccello Wow wow Prossimo Becco o bocca Ho già il becco e quindi lo sceglierò Becco su becco Chi è questo? Ok il prossimo Gambe muscolose o gambe sottili Muscolare Ah cos'è questo? Sono paffuto opila Mi piace Va bene Ok usciamo Fratelli e sorelle Andiamo Wow famiglia siete così belli? Grazie papà Sono bella No sei grasso Non sono grassa Aspetta cosa? La mia famiglia sarà migliore Ah 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 tu speri No papà Ha sconfitto Oh mio dio Ti odio da morire Aspetta Cosa sta facendo? I bambini escono Dove sono? Essere alto o veloce? Veloce Un occhio o molti occhi? Uno Forte o debole? Forte Wow Uccidere le persone Ah 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 Sono il prossimo Denti Wow Braccia lunghe o corte? Lungo Testa rotonda o a blocco? Testa rotonda E l'ultimo Bello Wow perfetto Aspetta E nostro padre? Dove? Perché l'hai ucciso? Sono il tuo nuovo padre Non c'è modo Amavo solo il padre precedente E non mi piace come quei due bambini sono usciti Vieni con me No Dove li sta portando? No 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 Ha ucciso i miei fratelli e mia sorella Mi sento come in un gioco di calamari in questo momento Comincio a pensare che questa nuova famiglia sarà terribile per noi Il giorno dopo Oh mi sono appena svegliata Aspetta Dove sono? Questa è una gara Chi vince si evolve Ma se si perde si muore Oh no Non posso morire così giovane 3, 2, 1 vai Wow abbiamo iniziato Oh mio dio Ok Mi sono ripreso Posso vincere Andiamo Oh si si E qui io io sono la vittoria Ehi Ah Oh Sarò l'ultimo per colpa sua Oh Devo recuperare in fretta Ah si Ho vinto Oh mio dio Bambam no Il nostro amico muore ora Devo andare Veloce Vincerò questo E si L'ho fatto No Ha vinto l'uccello stupido Ehi Ok Non mi importa degli atres perchè ora è il momento dell'up game Oh mi sento aggiornato Wow Wow Axelot Mi piace Andiamo a vedere l'evoluzione del polpo Oh wow Jambo già sull'aggiornamento è il migliore Ma ragazzi Sapete cosa Odio questo tizio Di notte Ehi Figliolo Mi dispiace Ora tu E tu E voi entrambi Fatto A Il giorno dopo Aspetta Dov'è il mio corpo Perché ho perso tutte le mie parti Cosa hai fatto papà Quindi per ottenere la prossima evoluzione Dovete raccogliere tutte le parti Oh devo essere il primo Vedo una parte Aspetta Cos'è questo? Oh penso che non sia mia Un fammi vedere Oh vedo una parte qui Un lasciami prendere questo 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 Ah Lasciami prendere questo e questo Io Oh non mi sta bene Ehi Hai rubato le mie parti Oh me mi dispiace Jambo Ah Oh no Ho perso tutti i miei pezzi Fratello Ah Fratello Non ridere Jambo raccoglie tutte le sue parti Mi sento potenziato Io ho questa evoluzione Spaventosa fratello Ho ottenuto il primo Secondo Prossimo Wow il polpo si è evoluto Ma io Devo trovare la mia parte Vedo il torso Andiamo E la gamba proprio qui Seconda gamba Andiamo Ho due gambe Vedo le mie braccia nel parco giochi Controlla il tuo jump scare Prima di entrare Oh Ok Lascia che ti spaventi Non è stato spaventoso Il mio jump scare non è spaventoso Il mio turno Figura che voglio provare Wow lo ha distrutto Ok Quindi posso entrare Mi sento aggiornata Figura aggiornata Ok è ora Mi dispiace guardia Uh Ma sto salendo e saliamo sullo scivolo E scivoliamo perché ci sono le mie mani Prima io Second to go first Ok Salta male È morto Oh mio dio Tocca a me E andiamo Spero di non morire Non sono morto Ok Ora prendiamo il mio braccio E il secondo braccio E aggiorniamo Yo cosa vuoi da me Ti darò fortuna per 100 giorni Se ti piace E ti iscrivi in 5 secondi Sottoscrivere Ok ragazzi Siete pronti per la prossima gara Oh la prossima gara H&M penso di essere pronto Barerò Dai Yo abbiamo iniziato Ok andiamo Sono il primo Oh no Jambo Josh mi sta raggiungendo Non posso perdere Oh no Ho perso le gambe sempre Lui lo fa sempre con me Oh Aspetta Lo scheletro Ehi Scheletro Forse hai delle gambe O qualcosa del genere da vendere Si per 100 Robux Oh no Sono 100 Robux Li prendo in prestito per un minuto Ok Te li restituirò Io ho le mie gambe Oh mi dispiace Ok ti do 200 Robux per questo Prendili Ora ho bisogno di recuperare Come questo e saltare Io sono il primo O forse no Ok Devo correre veloce Oh no Mi sta raggiungendo Non posso farlo Oh È caduto Che diamine E qui abbiamo l'evoluzione Sì Andiamo Ce l'abbiamo fatta Wow Ora sembro così realistico Ok Ora è il momento di un Josh gigante E sta facendo tendenza nella gara Wow Siamo così vicini Oh no La figura è morta Oh mio dio Ora siamo rimasti solo in tre E l'arancione all'evoluzione Sono più veloce della luce Non può essere così Dai il tuo potere Polpo Hai preso metà del mio potere Non mi importa Ora è il momento della prossima gara Sembrarei schliche Questo gioco era popolare molto tempo fa Vai Ok Sono pronto Andiamo Io ho iniziato e sono il primo Sì Facciamolo Oh no Non posso cadere Questo è il pensiero più importante in questo momento Oh no Mi sta raggiungendo Non può recuperare Oh no 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 fratello Devo diventare più veloce E velocità Sto vincendo Io se cadessi sarebbe la fine Oh no 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 to rocci Sono così stupido La mia tastiera non funziona bene U e ho vinto Andiamo Vittoria facile Andiamo Einstein Kamarato Non è giusto Papà Non dirmi che gli credi Non può essere così Perché i papà credono sempre a questo jumbo Josh Non ce la faccio più Oh La mia vita è inutile in questo momento Aspetta Ah, chi è questo? Posso aiutarvi. Ok. Prima battere l'imboscata. Posso farcela. Ah, sarà facile. Ah, ciao Ambush. Ho vinto. Ora battere Charles. Oh, devo scappare. Presto. Oh no, sono così veloci. Non c'è modo. E ora tre persone mi stanno inseguendo. Devo diventare più veloce. Io sono più veloce. Aspetta. Chi è questo? Vieni qui. Ah, questo poliziotto Barry. Mi sta inseguendo. Veloce. Devo diventare più veloce. Oh, sono di nuovo veloce. Andiamo, oh. Andiamo. Così ora posso vendicarmi di mio fratello, di mio padre e di tutta la mia famiglia. Nessuno è venuto alla gara finale. Tutti hanno paura di me. Ah, pensi che io abbia paura di te? Come hai fatto? Mi sono allenato e ti distruggerò. Sei pronto? Sì, vai. Ehi, cosa? Ha iniziato lui? Non è giusto. Devo diventare più veloce. Oh, me o che sto recuperando? No, non sto recuperando. Devo diventare più veloce. Oh, andiamo. Forse riuscirò a recuperare. Sì, l'ho superato. Andiamo. E ho vinto. Non è possibile. Ho vinto papà. L'hai visto? Non può essere così. Aspetta. Cosa stai facendo? Ah, che penso che morirò. Cazzo. No, andrò in paradiso. Dove sono? In paradiso. Valuta queste persone e otterrai il potere di Dio. Il potere di Dio? Quindi sarò super veloce? Sì, come me. Ok, devo valutarli. Presto. Era la persona più veloce del pianeta e voleva esserlo di più. Posso aiutarlo. Ho dipinto le tue nuove gambe. Ora. Wow. Guarda com'è veloce. La figura gli ha tagliato le gambe e lui ne ha volute di nuove. Sto per fare un'operazione. Ok. Le mie gambe. Ah, per favore disegnami delle nuove gambe. Ok, fammi disegnare questo. Come questo. O questo sembra Sus. Finalmente hai le gambe. Ok, prossimo. Ha tagliato la testa della famiglia della figura. Aspetta cosa? Sì, ha tagliato le nostre teste. Oh mio signore. Ok, lo disegnerò. E ho finito. Sembrano fantastici. È tempo di vendicarsi. Tempo di vendetta. Cosa? Ah, cosa stai facendo? È stato brutto tagliare le monoteste. Ma si sono vendicati subite. Poi voleva un jump scare più spaventoso. Ok, fammi vedere il tuo jump scare ora. Ah, oh. Non era per niente spaventoso. Ok, te ne disegnerò uno nuovo. Non preoccuparti. Ok, ho finito. Allora vediamo il tuo jump scare adesso. Ah, oh. Scusa, mi spavento. Voleva che tutte le entità delle porte fossero imprigionate perché erano migliori di lui. Ah, vi ho chiuso tutti qui. Oh no. Oh no, che per me è brutto. Quindi vai in questa stanza. Sì, qui e non uscire. Ok, il prossimo è il ragazzo più veloce. Si sentiva innamorato di Pink Girl ma lei voleva solo rubargli le gambe e le braccia. Ehi, te lo disegno io. Ok, ho finito. Non ha un bel aspetto. Wow, grazie. Nessun problema. Il prossimo. Voleva una famiglia. Ok, facciamo in fretta. Ti ho disegnato un bambino. Ma non sono bravo a crescere. Wow, ho un figlio. Voleva un glitch perché aveva sentito dire che aiutava alla velocità. Ok, posso disegnarlo. Oh, cosa gli sta succedendo? Oh no, è gliciato a... Cosa sta succedendo? No, no, dobbiamo sparargli. Tutti lo spaventano con un jump scare. Oh addio Sonic, stai andando a male. Era il più veloce di tutti i tempi tra gli amici dell'arcobaleno. Penso che sia un bene. È stato più veloce a salvare i bambini con i jump scare. Tempo per correre. Più veloce. Voleva una famiglia. Ok, disegnerò la tua famiglia per te. Ok, ho finito. Voledi essere più spaventoso di ogni amico arcobaleno? Posso farcela? Credo. Ok, ho finito. Bene, vai lì. Vai qui. Il prossimo. Era il treno più veloce del mondo. Aspetta cosa? Tempo di gara. Sei pronto? Sì. Va. Andare. Ho vinto. Voleva essere più piccolo per diventare più veloce. Penso di poterci fare qualcosa. Fammi disegnare un piccolo Charles. Ok, l'ho fatto. E vediamo i risultati. Wow, che bello. Oh, aspetta. Siediti su di me. Ok, sono seduto su di te. Wow, sei così veloce. Fratello, è troppo veloce. No, no, ah, ah, ah. Che cosa hai fatto? Il prossimo. Stava guidando in mezzo a persone su rotaie. H.M. Buon odore. È ora di mangiare. Volevo darti il bene ma ora ti sto dando il male. Vai qui? Sì e resta qui per sempre. Il prossimo. Mercoledì. Era la ragazza più veloce della scuola. Un buono. Il prossimo. La gente la odiava perché ingogliavano i tornei. Oh, what are you talking about, man? Oh, fammi vedere. 3, 2, 1, vai. Ah, sarà facile. La odio. Oh, era una cosa bu. Voleva essere più alta e più veloce. Posso farcela. Fammi disegnare il mercoledì con le gambe lunghe. Wow. Cosa è successo con te? Ok, il prossimo. Voleva avere il suo jump scare. Penso di poterne disegnare uno come questo. E come questo? Ah, sì. Disegnerò alcune cose a caso e sì. Elimina i suoi genitori perché li odia. È ora di vendicarsi dei miei genitori. Ok, mercoledì scelgo il male per te. Vai al cattivo. Sì. E l'ultimo è il poliziotto Barry. Usava degli hack per catturare i prigionieri. Puoi mostrarmi questi hack? Un sì. Che cos'è questo, fratello? Sei così grande. Ti sto dando un dischiacere per questo. Poi, voleva un bambino. Ok, ti disegnerò. Ok, ho finito. Papà. Figlio. Poi voleva essere più veloce del tizio dei surfisti della metropolitana e prenderlo. Fammi vedere. Torna indietro. Velocità. Ok, non era male. Puoi andare alla grande. Quindi sì, ciao e ora penso che sia il momento dell'evoluzione. Ah, aspetta. Non sembra l'ultima evoluzione. È davvero brutta. Ma lasciatemi testare la mia velocità. Wow, cosa è successo? Sono così veloce. Ok, è il momento della gara finale. Sei pronto, Jumbo? Sì, con un principiante come te. Ok, 3, 2, un via. Sì, puoi correre. Ma io sono molto più veloce. Ah, ho vinto io. Andiamo. Ok, ragazzi. Ho visto tutte le vostre vere facce. E ora è meglio che vi nascondiate o ve le mostrerò. Aspetta cosa? Scappiamo. Non posso scappare. Mi nasconderò dentro. Qui. Wow, bel posto. Vi vedo. No. Oddio, ho sentito qualcuno morire. Lei l'ha ucciso. Trovarli è troppo difficile. Devo accendere i raggi X. Vedo qualcuno lì. Salta su. Ok, il prossimo è qui. Lei è lì. Aspetta cosa è questo. A stella. Dove? Corri. Ciao, ciao, maiale. Schierare un nuovo mostro. Ok, devo trovare il prossimo posto. Aspetta. Questo è il nuovo cercatore. Ru. Qui. Pensavo che ci fosse qualcuno qui. Ma ti vedo. No. Penso che se ne sia andato. Velocemente. Wow, perfetto. Ti vedo. Penso di sapere dove si trova. No, dove devo andare? Corri. Facile. Vieni un nuovo mostro. Oh no, nuovo mostro. Corri. Qui. Ome, questa stanza non sembra sicura. Oh no, non so dove scappare. Wow, dove sono? Oh no, è la mia fine. Devo saltare. È l'unica opzione. A. A è morto. Non ancora A. Nel frattempo. Sono tornato. Ed è ora di imbrogliare a nascondino. Drone. Che cos'è questo? Ti ho preso. Oh no, sta barando. Non è giusto. Aspetta. È tempo di scivolare. Aspetta no. Dove dovrei nascondermi? Qui. Ok, velocemente. Ora via, finalmente. Qui siamo al sicuro per ora. Oh grazie, bambalena. Hai anche una piscina qui. Non sembra normale. Vero, ma aspetta. Cosa? Guardate dietro di voi. Di cosa stai parlando? Oh no. Stinger. Vieni qui. Oh no. Nascondersi velocemente. Forse qui. Ok, devo trovare un nascondiglio. Mi chiedo se c'è qualcuno qui. Oh no, qui. Dove? No. 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 Oh, cibo. Mi sento così bene. Mi vedrà. Sento l'odore di qualcuno. Oh no. Scappo. Torna. Così vicino. Ragazzo. Resterò qui. Devo usare il bambam volante. Cattura qualcuno. Ok. Non c'è modo. Come mi hai trovato? Oh no, velocemente. Pozione. Non c'è modo. Dove è andato? Non lo saprai mai. Ah, facile. Me ne vado da qui. Veloce. Ho bisogno di un uovo nascondiglio. Aspetta qui. Wow. Ehi, cosa ci fai qui? O me nascondersi. Attacca. No. Non c'è modo. Corri. Cosa hai fatto? No. Torna poca. Corri. Pulsante. Wow. Questo è epico. So dove è andato. Mi servono rinforzi. Siamo qui. Prendilo. Non stanno arrivando. Devo uscire. Oh, la prossima pozione. Sono fortunato. Bego. Bello. Dove è andato? Oh, lo vedo. È epico. Scappo via. Facile. Oro wow. Nel frattempo. Sento che c'è qualcuno qui. Aspetta. Uno mi ha trovato. Vieni qua. No. Mi dispiace maiale, ma è la tua fine. No. Wow, ho trovato questo posto illuminato. Il cercatore è qui. Devo stare attento. Popcat, spara. Ok. Bravo, Popcat. Oh, no. Qui. Wow. Il miglior nascondiglio di tutti i tempi. Dove sono e che è questo? Dottore che sta arrivando. Come? Dove è andato? Un giorno dopo. Ok. Sono rimaste solo cinque persone da mangiare. Schierare i due mostri. Credo che questo maiale sia troppo lento per prenderci. O me aspetta. Nu. Nascondersi velocemente. Evviva. Penso che questo maiale sia troppo lento per prendermi. Aspetta. Jumbo. Nab, Nab. Sono laggiù. Stanno arrivando. Nasconditi. Ci sono solo alcuni polli. Co, co, co. Non siamo sus. Metti mi piace e iscriviti per avere l'uovo d'oro accanto al tuo letto domani. Bye, have a great time. Era così vicino. Un'ora dopo. Questo posto è orribile. O me aspetta. Siamo nuovi cercatori e vi prenderemo. Fratello e sorella, lo attaccate. Sposto. U me. Pensa che non lo troveremo. O no. Cercherò di nascondermi nel frigorifero. Adesso. Aspetta cosa c'è dentro. Pozione. Cosa? Devo berla rapidamente. U me. Ti vediamo. Noi ti vediamo. Devo diventare più piccolo. Sto uscendo. Oh no. Veloce. Morirò qui. Non c'è posto per nascondersi. U me cosa. Torna. No. Devo scappare. Wow, un nuovo posto. Vedo pigster. Prendetelo ora. No. Scappo. Un ne sono dentro di lui. Fratello, l'hai mangiato? Oh, mi dispiace tanto. Usciamo da qui. Aspetta, sono ancora dentro di lui. L'hai preso? Sì. Sto uscendo da qui. Pum. Aspetta come? Pum. Scappo. Qui. È scomparso. Ok, ci servono altri mostri. I bambini entrati. Ora prendeteli. No, stanno arrivando. Mi nasconderò. Qui. Bello. So che è lì. Lui è... Mi veloce. Ciao. Ehi, torna indietro. Siamo così grassi. Ok, ce l'ho fatta. Sono in classe con Bambalena. Bambalena, pensavo fossi morto. Oh, non importa. Lei è morta. Occhia ciao. Nasconditi Popcat. Oddio. No. No, è morta. Pensi che non sappia dove sei? È la tua fine. È la tua fine. So dove sei. Dove è andato? 20 secondi prima. Devo uscire da qui. Wow. Oh no. Ho sentito che Stinger è morto. Penso che nessuno mi troverà. Ti vedo. No per favore. No. No per favore. Qui. Umme. Vieni qui. Sì mamma prendilo. Lasciami in pace. Lei è un perdente in piedi. Quindi siamo vivi solo io e Jumbo Sono vivo ma aiuto Qui Wow Sono troppo grasso Lo farò per te mamma Oh no, sta entrando Wow Sono al sicuro qui Non per molto Ma qui di sicuro Non c'è modo Ok, Jumbo è morto Quindi ora devo sopravvivere e vincerò Aspetta, non c'è modo Quale scivolo scegliere? Pigster Sono nello scivolo Oh no, chi è questo? Torna Sto scegliendo questo Oh no, è la mia fine No fratello, siamo qui per aiutarti Oddio NubNubs Non c'è modo Wow fratelli, abbiamo vinto Lei è nella mia casa Impossibile Mi dispiace Volevo baciarti Aspetta Non sono bambalena Hai sbagliato persona Hai sbagliato persona Abbiamo bisogno di bambalena Cosa sta succedendo? È la mia casa Devo andarci Oddio, cosa sta succedendo qui? Bambalena bevi questo Ah No, mai Dammi quello No, ora esploderò Oddio, cosa è successo qui? Perché tutti sono bambalena? Questa persona ci ha cambiato E ora devi scoprire quale bambalena è reale Oh my god Bamban, quale pensi sia la tua ragazza? Questo, posso sentirlo Non credo Era Stinky Joel L'hai baciato No, no, no Quindi abbiamo ancora dieci bambalenas Ora dobbiamo controllare le vostre voci Prima bambalena Wow, bellissima Prossimo E ricordati che le risposte sbagliate saranno punite molto duramente Ok, non sospetto Prossimo Ciao Dove ti stai nascondendo? Per favore Fa male Sono forte Um, non suona esattamente come bambalena Ma va bene Prossimo Ascolta, se riesci a sentire quello che sto dicendo Fai un cenno a qualsiasi telecamera Cosa? Voce maschile Sei un sospetto Prossimo Quindi ci incontriamo di nuovo Dove sono i miei figli? Prossimo Sto venendo in questo posto e poi mi viene ricordato che tutto per cui sto lottando vale tutto lo spazio e la sofferenza Sospetto Prossimo Mi ha portato in bagno Questo era strano Prossimo Piacere di conoscerti Um, penso che tu sia malato Prossimo Sei stato uno studente cattivo Bene, ultimi due Cosa? Ok, questo è Opila Ma l'ultimo Ok, questo sembra normale quindi tu Stai uscendo Avevo ragione Sono rimaste solo nove bambalena Quindi ora devo controllare i vostri spaventi Numero uno Ok, bene Prossimo Non male Sembra reale Ok, questa persona era sospetta prima Attaccami Dove pensi di andare? Wow Era come bambalenas Non sei più un sospetto Prossimo Ahia la mia testa Era reale Prossimo Ora tu Cosa era quello? Non è bambalena Fai di nuovo Il secondo era reale Prossimo La mia testa Ma era uno spavento molto sospetto Prossimo Di nuovo Oh fratello Perché hai lo spavento di NubNub? Perché il dottore ha cambiato il mio cervello Sospetto Prossimo Unne Spavento incredibile Mi piace Sei reale Prossimo Cosa era quello? Lo spavento di Fiddles Sospetto Prossimo Tu lo sai Aia Perché lo spavento di Bambam? Oh Ho appena cliccato il pulsante sbagliato Era ancora Bambam Stai venendo eliminato Ah Era Bambam Ops Ok Prossima categoria Disegnati ora Ok fatto Non sono bravo a disegnare Facile Non un bel disegno Prossimo Non il migliore ma ok Prossimo Wow Prossimo Wow Buono Prossimo Brutto Sei un sospetto Prossimo Um Perché c'è un Stinger Finn Cosa? Um e nulla Strano Prossimo Buono Wow Hai dipinto un modello 3D E l'ultimo Um Sceriffo Che diavolo Mi dispiace ma stai venendo eliminato Ciao ciao Ah Avevo ragione Non ne restano molti Prossimo Devi disegnare la tua cotta Facile Mostrami Ohio Bambam Prossimo Bene Ok prossimo Cosa? Figo Prossimo Bambino ma Bambam Quindi ok Prossimo Bambam malvagio Bene Questa è la mia cotta Aspetta Cosa è questo? Um e E tu? Ragazzi siete sospetti da ora Ma ora Bambalena era molto forte Quindi colpisce questo muro Oh Oh my god Oh Non è il migliore Prossimo Oh my god Quello blu Bambalena era molto meglio Prossimo Quello rosso Lasciami pensare Meglio del precedente Viola e arancione Perché questo? Viola molto bene Ma arancione Questo è brutto No 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 Ne restano tre Facciamolo Dai Siete al sicuro ragazzi Mi dispiace fratello Ma sei falso Per favore no Stinger Flynn Quindi ne restano solo sette Ok Quindi ora ho una domanda Quando Jumbo Josh Ti ha colpito e afferrato Dove sei andato? La risposta corretta È nella stanza su andate Je ne suis pas dué Porre de ça Um siamo andati a un appuntamento Stavamo bevendo caffè Per favore lasciami in pace Wow Mi chiedo dove l'ha portata Sembra reale Ok quindi ora tu Lo stesso Data Ok Lasciami pensare Mi ha portato per l'operazione E voleva cambiarmi Ah È ora di cambiarti Ah perfetto Un strano Ok Tu Mi ha portato a Umme In prigione Cosa Non credo sia corretto Ok tu Data Prossimo Mi ha portato fuori Per un appuntamento Ok tu Mi ha portato in bagno Cosa Metti like e iscriviti O Bambalena sarà nel tuo bagno Fratello sei un sospetto E l'ultimo E l'ultimo Sì Ok non riesco ancora a scegliere chi uccidere Quindi ora Bambalena era molto veloce Benvenuti al torneo finale Siete pronti? Sì Sì Wow È così veloce Prossimo E prossimo E prossimo Ok Vediamo chi ha vinto Bravo Sei stato veloce E aspetta Perché ne manca uno? Mio dio Mi dispiace ma devo ucciderti Ciao Lumaca serine Bambalena era intelligente Quindi ora risolvi questo quesito Vieni Una mela più una mela equivale a? Due mele Hai ragione Bene Prossimo Pomodoro più acqua equivale a? Zuppa di pomodoro Hai ragione Sei legittimo Prossimo Aereo meno carburante per auto equivale a boom Wow Sei così intelligente Prossimo È così facile È zuppa di pomodoro No Cosa? Assassino più coltello equivale a morto Non sei bambalena Ciao Zolfius Non bene ma abbiamo solo 5 bambalene rimaste Ok Quindi disegnati e poi diventa quello Tu per primo Fatto Wow Sembra bambalena Ok Quindi ora per il prossimo Facile fratello Aspetta Cosa è questo? Sei un sospetto Ok dopo un sospetto il prossimo Andiamo Bambalena più nabnab Molto strano Ma ok Ora tu Cosa è questo? Zolfius più bambalena Prossimo Facciamolo. Cosa è questo? Fratello, stai ricevendo una spilletta di sospetto. Quindi ora bevi questa pozione e vedremo la tua forma mutata. Mostrerà chi è reale e chi no. Vado per primo. Potresti essere bambalena. Ok, quindi il prossimo. Questa pozione l'ha eliminata, fratello. Ok, quindi il prossimo. Grande prossimo. Mio Dio, questo è sospetto. Hai il corpo di Nabnab. Quindi il prossimo. Questo è falso. È Raccoonc'Pickles. Mi dispiace. Ok, quindi abbiamo solo quattro bambalene. Ok, quindi ora ragazzi voglio vedere cosa avete fatto nella vostra vita. Cominciando con il primo. Lei era super forte. Perché sei così forte? Ah, sono sempre stato così. Ok, questo era corretto. Bambalena è forte. Prossimo. La radiografia mostra che all'interno del costume di bambalena ci sono due persone. Ok, ora vediamo cosa c'è dentro di te. Cosa? Due persone. Ok, questo è sospetto. Due persone sono in Pigster. Lei ha ucciso Bambam perché era con Nabnablena. Ok, bambalena potrebbe essere gelosa di Bambam. È corretto. Lei era innamorata di Pigster. Aspetta. Tutto questo mi dice che sei un Pigster. Avevo ragione A. Ne restano solo tre. Lei è stata morsa da Bambanni poi ha perso la mano. È vero e corretto. Prossimo. Lei era ultra intelligente e ha risolto un milione di problemi matematici. Questo è il problema matematico più difficile del mondo. Due più due. Quattro. Mio Dio, sono così intelligente. Sei intelligente come Bambalena. Era molto lenta come una lumaca. Era come una lumaca quando camminava. Mostrami come cammini. Mio Dio, è la cosa di Lumaca Selene. Strano. Prossimo. Lei puzzava. Bella cena Bambalena. Non mi sento così bene. Oddio cosa? Mio Dio, è come Stinky Joel. Aveva un sacco di peli sul corpo ed era disgustoso. Che diavolo. Strano. Aveva una grande pancia perché amava mangiare. Fratello. Stava spaventando i nerd. Siete tutti nerd. Odio i nerd. Attacco. Ok prossimo. Lei è alla cotta di tutti. Anche di Adam di Lenkybox. Sì, è vero. Tutti amavano Bambalena. Aveva dei bambini con Bambam. Mostrameli. Wow. Sono dolci. È stata colpita da Jambo Josh. Tutte le cose qui sono corrette. Ma ora passiamo alla prossima categoria. Ora devi costruire la tua statua. Il migliore equivale a vincere. Ti sto chiudendo e aspettando i risultati. Cinque ore dopo. Ok. Vediamo i risultati. Um, non male. Prossimo. Cosa è questo? Non è Bambalena. Mi dispiace. Sospetto. E l'ultimo. Wow wow wow. Perfetto. Mi dispiace ma stai uscendo dalla competizione. Jambo Josh. Mio Dio. Ok. Quindi solo due Bambalene rimaste. Vediamo cosa hai fatto. Lei attaccava le persone ma queste schivavano il suo attacco. Sembrava un ragno con un sacco di denti. È anche il ruolo di Nabnab. Fratello. Era un maschio. Aspetta. Bambalena è una femmina. Non un maschio. Ok. Sai cosa? Sei falso. Impossibile. Nabnab. Ok. Quindi questa è la vera Bambalena. Iai. Sì. Finalmente mi hai trovato. Ciao. 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 Ciao.